Con questo tutorial vediamo come rappresentare delle funzioni. Andremo a vedere funzioni irrazionali il cui grafico potrà essere dedotto dall'equazione di una circonferenza. Partiamo da questo esempio. La prima cosa che dobbiamo andare a vedere è qual è il dominio di questa funzione e ci dobbiamo garantire che la quantità sotto radice deve essere maggiore o uguale a zero. Svolgendo questa diseguazione otteniamo che questa funzione risulterà definita quando x è compreso uguale tra meno 1 e 1. Per rappresentare questa funzione ci dobbiamo inoltre garantire di aver isolato la parte con la radice e a questo punto questa funzione risulterà equivalente al seguente sistema. Abbiamo dovuto imporre che la y deve essere maggiore o uguale a zero perché deve essere uguale ad una quantità sotto radice. Ora se la y è maggiore o uguale a zero possiamo elevare al quadrato ambo i membri e riscrivendo questa equazione di secondo grado in questo modo ci rendiamo conto che questa non è nient'altro che l'equazione di una circonferenza che avrà centro 0,0 e raggio 1. Ora andiamo a rappresentare l'equazione della circonferenza che ha questo centro e questo raggio e poi andiamo a considerare soltanto quando la y è maggiore o uguale a zero. Rappresentando l'equazione di questa circonferenza avremo questo disegno cioè questa è l'equazione della circonferenza che ha centro 0,0 e raggio 1. Però noi dobbiamo rappresentare questa funzione e la funzione è definita quando y è maggiore o uguale a zero. Questo vuol dire che dobbiamo andare a prendere soltanto la parte del grafico che è maggiore o uguale a zero e allora vuol dire che la parte in rosso rappresenta proprio il grafico di questa funzione. Vediamo quest'altro esempio, dobbiamo rappresentare questa funzione. La prima cosa che andiamo a fare è il dominio e quindi andiamo a porre questa quantità maggiore o uguale a zero. Otteniamo che la x deve essere compresa uguale tra 2 e 4. A questo punto andiamo a riscrivere questa funzione in una maniera equivalente. otteniamo un sistema misto dove abbiamo posto che la y deve essere maggiore o uguale a zero perché questa quantità è uguale ad una quantità sotto radice e quindi deve essere necessariamente non negativa. Ora in quest'altra equazione possiamo elevare ambo i membri al quadrato. Una volta che portiamo questa quantità a sinistra otteniamo l'equazione di una circonferenza. Andiamo a determinare il centro e il raggio ed otteniamo che il centro è 3,0 e il raggio vale 1. Ora andiamo a rappresentare questa circonferenza. Il centro è 3,0 e questo è il raggio pari a 1. Lo scopo è andare a determinare il grafico di questa funzione. Ora a partire da questa circonferenza andiamo a dedurre qual è il grafico di questa funzione. Sappiamo che la y deve essere maggiore o uguale a zero e allora vuol dire che dobbiamo andare a prendere la parte positiva della circonferenza. Allora questo tratto in rosso rappresenterà il grafico di questa funzione. Vediamo quest'altro esempio. La prima cosa che andiamo a fare è il dominio di questa funzione e quindi andiamo a porre questa quantità maggiore o uguale a zero. Otteniamo che la x è definita tra zero e due. A questo punto isoliamo il radicale andando a portare questa quantità a sinistra e andiamo a riscrivere questa funzione come un sistema misto. Nella prima disequazione andiamo a scrivere y maggiore o uguale a 1. Nella seconda equazione eleviamo ambo i membri al quadrato. A questo punto svolgiamo questo quadrato di binomio e portiamo a sinistra questa quantità. Otteniamo in questa maniera l'equazione di una circonferenza. Andiamo a determinare il centro e il raggio e poi la rappresentiamo. Il centro di questa circonferenza è il punto 1,1 e il raggio è pari a 1. Sappiamo che questa funzione è definita quando y è maggiore o uguale a 1. Siccome che questa è la quota 1, il grafico di questa funzione deve essere maggiore o uguale a questa quantità, ossia andiamo a prendere questa parte della circonferenza. Vediamo quest'altro esempio. Andiamo a fare il dominio di questa funzione e quindi andiamo a porre 16 meno x quadro maggiore o uguale a zero ed otteniamo che x deve essere compreso uguale tra meno 4 e 4. Ora andiamo a isolare il radicale e portiamo questo segno meno a sinistra e poi andiamo a riscrivere questa equazione come sistema misto. Nella prima disequazione moltiplichiamo ambo i membri per meno 1 ed otteniamo y minore o uguale a zero. Nella seconda equazione invece eleviamo al quadrato questo termine e questo termine e poi andiamo a riscrivere in forma canonica. Ottengo una circonferenza che avrà centro 0,0 e raggio 4 e vado a rappresentare in un piano cartesiano. Il centro di questa circonferenza è il punto 0,0 e il raggio è 4. Ora andiamo a vedere qual è il grafico di questa funzione. Sappiamo che la y deve essere minore o uguale a zero e quindi vuol dire che dobbiamo andare a prendere la parte di sotto della circonferenza. Allora questa parte in rosso rappresenta il grafico di questa funzione. Vediamo quest'altro esempio, andiamo a calcolare il dominio di questa funzione e poi isoliamo il radicale portando il 2 a sinistra. Riscriviamo ora questa equazione come un sistema misto. Andiamo a porre y meno 2 maggiore o uguale a zero perché deve essere uguale ad una quantità dove a destra c'è un radicale. Per quanto riguarda invece la seconda equazione eleviamo ambo i membri al quadrato e poi andiamo a riscrivere in forma canonica. Otteniamo una circonferenza e andiamo a determinare il centro e il raggio e poi rappresentiamo graficamente la circonferenza centro 0,2 ed è questo il punto e raggio 3. Ora andiamo a vedere qual è il grafico di questa funzione. Sappiamo che questa funzione è definita quando la y è maggiore o uguale a 2. La quota 2 è questa qui. Allora vuol dire che dobbiamo andare a prendere la parte superiore della circonferenza. allora vuol dire che questa parte rappresenta il grafico di questa funzione. Vediamo quest'ultimo esempio. Allora la prima cosa che andiamo a fare è il dominio di questa funzione andando a porre questa quantità maggiore o uguale a zero. Otteniamo che la x è definita tra meno 6 e 2. A questo punto isoliamo il radicale. La prima cosa che faccio è portare il 5 a sinistra. Poi ho ancora un segno meno di fronte alla radice. Allora moltiplico per meno 1 tutte e due termini. Ora vado a riscrivere questa equazione come sistema misto. Risolvo questa disequazione, elevo ambo i membri al quadrato e riscrivo questa equazione in forma canonica. Ora vado a determinare il centro e il raggio di questa circonferenza e poi rappresento graficamente. Il centro di questa circonferenza è pari a meno 2 e 5 che è questo punto e il raggio è pari a 4. Quindi questa lunghezza sarà pari a 4. Sappiamo che la funzione deve rispettare il vincolo che la y deve essere minore o uguale a 5. La quota 5 è questa qua e la parte minore è questa. Allora vuol dire che questo pezzo di circonferenza rappresenta il grafico di questa funzione. E con questo termino il tutorial su come poter andare a rappresentare il grafico di funzioni che si deducono dall'equazione di una circonferenza.